Non so voi, ma io riflettevo su un aspetto a mio valere fondamentale. Allora, pensate al Sud Italia. Bellissimo, gente calorosa, luoghi straordinari, bellezza ovunque, cultura che spunta, così, e quanto oggi sia considerato, e anche oggettivamente purtroppo, digitalmente indietro. Ora, se io prendo un americano e a un americano dico, ti faccio vedere il Sud Italia, l'americano sviene, dice wow, e stiamo parlando di un mondo che vive di teleravoro senza problemi, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, dove in fondo il lavorare digitalmente è diventata la normalità. Ora, sarebbe bello prendere americani e diregli venite qua a lavorare, creiamogli dei posti, dei luoghi, innanzitutto mettiamo connessione, e quello sta già avvenendo. E poi creiamogli un contesto diverso da quello che c'è, perché è ovvio che se uno dice, beh ma se non arrivano ti posso creare il resort 5 stelle, facciamolo, insieme alla Silicon Valley. Non sarebbe una brutta idea secondo me, ma senza arrivare agli americani, anche solo gli italiani. Allora, io sono nato al nord, ma poi sono vissuto un po' dappertutto, e infatti sono un po' apolide in qualche modo. Da 15 anni vivo a Londra perché, ormai non so più dirti perché, ti posso spiegare perché all'inizio è capitato di andare là, ma vivo lì con i miei figli da per me tanti anni, è proprio casa. Casa a questo posto particolare che si chiama Londra, non è proprio l'Inghilterra. E allora dico, quanto anche il nord Europa, quanto sarebbe bello spostare le persone a lavorare al sud. Cioè il sud Italia è un posto pazzesco, e nel mondo pre-digitalizzazione probabilmente aveva problemi infrastrutturali complessi da risolvere. Adesso le infrastrutture sono digitali. Io ce la vedo, io riesco a immaginarlo un sud ricchissimo, pieno di persone che lavorano sfruttando in senso positivo le bellezze, il clima, tutto il cibo, tutti i profumi, tutto quello che c'è, vendendo fuori. Peraltro portando anche economia lì. Secondo me questa è una nuova Italia che io riesco a immaginare. Sono matto o voi avete un'idea e pensate che sia qualcosa di più di una follia?